Ita Airways risponde a Volotea che a sua volta rilancia per cercare di accapararsi la gestione delle rotte in continuità territoriale della Sardegna. Una concorrenza ormai aperta che è partita dalla conferma da parte della compagnia spagnola di voler operare il collegamento tra Cagliari e Fiumicino anche in estate, cioè oltre la scadenza del bando provvisorio del 14 maggio. Proposta cui è seguita l'intenzione da parte di Ita di assumere gli oneri di servizio pubblico senza diritti esclusivi né compensazione finanziaria per almeno 12 mesi. Ora arriva la controproposta di Volotea, coprire per 12 mesi le rotte da Olbia e Cagliari verso Linate e Fiumicino. In mancanza di ulteriori proposte se le offerte saranno dichiarate adeguate si potrebbe quindi arrivare una spartizione delle rotte tra i due vettori. Sarebbero inoltre confermate le tariffe agevolate per i sardi mentre per i non residenti si profilerebbe il libero mercato con i rischio di alti costi per i turisti nell'alta stagione. Ma i sindacati manifestano delle perplessità. Anzitutto, come segnala il segretario Filt CGL Sardegna, Arnaldo Boedu, l'impossibilità ad oggi di prenotare un volo da e per Roma e Milano oltre il 14 maggio. Altro dubbio per la sigla sindacale, il rischio per i sardi di perdere il diritto ad avere una continuità territoriale aerea di fronte al profilarsi di un quadro di liberalizzazione. E poi, continua Boedu, sorgono dei dubbi su come le compagnie possano sopportare gli oneri di servizio pubblico rinunciando ai contributi anche nei mesi di bassa stagione.